Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su FIFA, sulla modalità allenatore di FIFA, campionato arabo Serie chiamata calcio, che babbo e fantasia Inizio con dei ringraziamenti, mentre guardo un attimo, controllo la rosa che però sembra essere quasi tutto a posto Forse devo rimettere qualche titolare al suo posto, tipo Machado Comunque volevo ringraziare intanto a bei soliti Lorenzo Congiu e Luciano Castorina Che il primo praticamente mi chiedeva cosa fare nel caso in cui non ci sia una competizione internazionale asiatica Ecco, al quale qualificarsi e gli ho risposto Comunque ci sarà un po' da valutare un po' di cose anche e soprattutto in base a tanti fattori Tempo a valore di posizione prima dell'uscita di FIFA 19 Al tempo, i risultati di questa stagione eccetera eccetera Poi intanto Arboleda torna in porta, torna al suo posto E poi vabbè, Luciano Castorina che diciamo ha mostrato solidarietà per quanto riguarda l'ultima partita della scorsa puntata E poi ringrazio anche Federico Buda che mi ha dato dei consigli per quanto riguarda il montaggio del video Ha fatto i complimenti, mi piace i miei video E mi ha dato dei consigli per quanto riguarda il montaggio video Consigli per il quale insomma lo ringrazio sentitamente Ecco, ogni consiglio, ogni critica quando costruttiva è sempre molto ben accetta E mi fa piacere, ripeto, migliorarsi è sempre possibile E quindi comunque, certi consigli insomma sono ben accetti Soprattutto in quell'ambito insomma per i miglioramenti Ecco, comunque andando a noi andiamo subito alla prossima partita con l'Alle Tfac Prima ricapitoliamo un attimo il tabellone, il campionato Abbiamo giocato 18 partite finora, è iniziato non molto il giorno di ritorno Siamo secondi, secondi a 4 punti dalla Lali, primo in classifica Però con 2 punti dietro soltanto l'Alfa e i Sali Ma 7 punti dietro abbiamo l'Alilal Che se non mi sbaglio sono i campioni in carica Ci sono quelli che hanno vinto l'anno scorso Comunque io direi di andare subito alla partita La squadra è quella più o meno titolare, quella che ho schierato Se non mi sbaglio, se non mi sono dimenticato qualcosa La squadra è più o meno quella titolare All'Alle Tfac facciamo attenzione Facciamo molta attenzione Perché comunque sono di quelle partite che possono mostrare delle... Possono essere delle trappole Ok Ci siamo Ci siamo signori Ci siamo Siamo qui pronti Questa Eh che cosa dici Campionato arabo è un grande campionato Che stai dicendo Comunque Pronti Ok Ci serve la vittoria Ragazzi Ci serve la vittoria assolutamente Cerchiamo Abbiamo un po' perso il passo dalla prima in classifica Una vittoria ci servirebbe Ehi Comandami No No Che sta cosa Dai che fanno blocco Fanno Meno male Fammene dai Ok Calma 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 Fermalo Fermalo Non sei Meno male Meno male Meno male Meno male Allora Allora Hyrd Vai al Canada Ok Bene Dai No Va bene lo stesso Fatti Cross Voi Povend Ma vai No 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 Vai Lindi No No Ma Per Carvalo No 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 Vabbè Ok Impossibile chi cosa Vabbè 1-0 Loro Calma Con calma Dobbiamo mantenere la calma Dobbiamo mantenere la calma Dobbiamo mantenere la calma Ok Perché non va bene Ok Minchia Cazzo di fenomeni Che Real All'hettifac Oh Ragazzi Sveglia Sveglia Signori Sveglia Niente Non Stiamo avendo problemi serissimi Proprio In fase di costruzione Ah no Dai 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 Arboleta Ok Di qua Fatti Ok Boven Sulla fascia Naif Niente Sarebbe uscita Grazie Oh Vai Per Alfonso Mi non si muove Anco per E Nindi Dall'altro lato Cambiamo fascia Alla Fatì Fatì Cross Fai Alfonso 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 E Alfonso La mette Grande Cross Infatti Alfonso Si inserisce Perfettamente Di testa La mette Grande Alfonso Grandissimo Alfonzino E Alfonzino Davies Alfonzino Davies 1-1 Dai Avanti Dai 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 Però Bravo Alfonso Vai Alfonso Vai via Alfonso Vai via Alfonso Bruciatelo Bruciatelo Alfonso Babbi Alfonso Cross Vai Ma chi cazzo E vabbè 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 Non l'ho capito Però vabbè Ah 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 Oh Bravo Bravo Arboleda Vabbè Dai 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 Oh Ora Prendiamo palla E ripartiamo Prendiamo palla E ripartiamo Arboleda È tua Perfetto In avanti Dai Che Stavi Stava lanciando Alfonsino Vabbè Dai 1-1 L'abbiamo Rimessa in piedi Adesso Dobbiamo Vincerla Adesso Dobbiamo Vincerla Assolutamente Però Evitiamo Cambi Torna Al sessantesimo Qualche Cambio Lo faccio Dai Alfonso Oh Dai Vai Bravo Aird Recupera Il pallone Bello Infatti Infatti Controlla Un po' A cazzo Di cane Però Cross Non ci credo Non ci credo Non ci credo Però Ci siamo ancora Alfonso Dai Naif Naif Cross Niente È naif Se la porta fuori Vabbè Dai 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 Calma No No È uscita brutta Uscita brutta Uscita brutta No Ragazzi Sveglia Bravo Arboleta No Nacchina Dai C'hai quello Qua sotto Indicavo Quello Più vicino Non È ovvio Che a quello Non è arrivato Fatti Vai Alfonso Vai Alfonso Vai Alfonso Vai Alfonso Tira pure il cross Non c'era nessuno Ok Allora Io direi Adesso Fare i cambi Adesso Allora Boven Mi sta letteralmente Morendo in campo Quindi Suvatto al posto Di Boven Poi Infatti Mi hai giocato bene In base Al pitogno Di Abazza Terzo cambio Ce lo pensiamo Terzo cambio Ce lo pensiamo Ok 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 Batte Alfonsino Primo palo Io direi Così Cross Nave Attenzione Ancora parata Poi Uno schermo Primo palo Primo palo Cross Niente Never Questo Vabbè Non è riuscito Bene Pazienza Suvat Davide Davide Alla Billy Io indicato Billy Abazza Ok Dai Alfonso 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 Tira Por Che Non ci credo Ci credo Billy Stava per ribadirla Vabbè Dai 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 Alla Primo E Eeeh Qua Vai E chi cazzo Si è Billy Vabbè Nella parca Di No No Fuori Ok 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 Serve Forze nuove Anche in attacco Alma Graffi Al posto Di Di Billy Di Billy Banda Ok Riprendi Andiamo Avanti Ah no 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 Morca Miteria No Non ci credo Ragazzi Non ci credo Vabbè Vabbè Dai Dai Cerchiamo Di 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 Far Qualcosa E Ciao Bravo Bravo Sandro Si va Poi si blocca Niente Poi si blocca Errore di sistema Sandro Manuel Ciao Errore di sistema Windows E Vabbè 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 Non ce lo Non ce lo meritavamo Non ce lo meritavamo E vabbè No c'è Dai Dai Naif No vabbè Errore di sistema Errore di sistema Giocatori 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 si bloccano Si bloccano impalati Non fanno più niente Errore di sistema Windows Eeeh Purtroppo Eeeh 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 Brutta Eeeh Brutta Brutta Sconfitta Da tanti punti di vista Questa Come Entità Come risultato Come effetti Brutta Brutta Sconfitta Questa Mi sa che il primo posto Ce lo possiamo scordare Perché A meno che non abbiano perso Anche La Lali E a quel punto Mi mangiò le mani Perché se Se ha perso anche La Lali Eeeh La Lali La Lali No Non ha giocato ancora La Lali Adesso Giocherà Noi intanto Vediamo cosa Allora Se ha prima La relazione All'osservatore Perché Se in caso Ci siano giocatori Buoni Purtroppo Non avrei Come sostituirli Allora Vediamo un po Io vorrei Vedere Un attimo Ufficio La primavera Allora Vi vaio Vediamo un po Questo 81 86 Quasi In casa Nani Io questo Questo lo cediamo Ragazzi Cioè Lo cediamo E Questo Rashid Alma Wallad Gli Alma Wallad Riescono sempre male E Questo si cede pure Ragazzi Non possiamo Troppi Tenerli Vediamo Gli altri Vediamo E adesso Fatto questo Possiamo Andare a vedere Poste in arrivo Vedere Le relazioni Osservatori Allora Abdel Agder C'è Cos Vale Valore 160 Mila Di a Sett'anni Il potenziale 60 78 Boh Ce la pensiamo Mustafà Benzecri Ne rifiuta Proprio neanche Ce la pensiamo Fatì Tag Ma Vuoi Ne rifiuta Per questo Io non capisco Io avevo ceduto Un paio di giovani Non capisco Perché Budget 1.000 Budget Stipendi 1.000 1.000 Di budget Stipendi Ce li ho Quindi Due Due giovani Potrei prenderli No Si è buggato Anche sta Comunque Ufficio Allora Poste in arrivo Andiamo Allora Al Bonsalman Cosa mi ripropone Allora Bar Kaksim Non me li fa Prend Fad Al Mehalel All 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 Ce la pensiamo Sabay Asha Eh Pifiuta Ashraf Zebramani Mi fiu No Me la penso Rahim Zebramani Me la penso Kasim Al Farran Me la penso Ok Questi si serviranno Più da vicino E vediamo un po' La situazione Ora Direi passare Adesso Al Intanto Andiamo Scorriamo un attimo La La stagione Purtroppo Allora Eh Vascermata Convocati Sì Tutti a posto Sì Sì Tutti a posto Ora Lalali Lalali Ha pareggiato E avremmo preso dei punti Lalali Avremmo preso dei punti Vabbè Se avessimo vinta Ma vabbè Comunque Facciamo la simulazione Vediamo se si allenano i giocatori Sì Però l'impressione è che Arboleda sia più o meno arrivato come allenamento Potremmo Anche Fare a cambio Per quanto riguarda le menti Io intanto vediamo Conferenza stampa Devo partecipare per forza? No Non mi va Per favore Basta conferenza stampa Dobbiamo Dobbiamo rimetterci sotto con l'Al Nasser Che è un'altra partita tosta Pure giocatori impegnati con le nazionali Abbiamo Che cos'è? Conferenza stampa Non la voglio fare la conferenza stampa Ma è rotto le balle Boven Cetri Gutierrez Vabbè Ok Vediamo un po' Se ci sono No No Saranno impegnati dopo Saranno impegnati dopo Adesso ci sono tutti Sembrano tutti più o meno riposati Tranne un paio E a questo punto Alla Billy Lo tengo lì Però Al Zubaidi per esempio Lo cambio I terzini I terzini Dovrò Cambiarli l'anno prossimo Dovrò Comprare qualche cosa di terzini L'anno prossimo Sia sinistro che destro Comunque Diamo avanti Diamo avanti Gioca partita Dobbiamo riscattarci qua Cerchiamo di riscattarci Cerchiamo di riprenderci Perché La vittoria ci serve Ci serve Ok Ci siamo ragazzi Dai ci siamo Di nuovo Altra partita in casa Con l'Al Nasser Stavolta Ragazzi È obbligatorio Vincere Cioè Questa bisogna Dopo la brutta Sconfitta Della scorsa Partita Questa dobbiamo vincere Per forza di cose Regà Cioè Non esiste Altro risultato Calma No 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 Meno male Meno male Meno male Meno male Avanti Dai Al Zubaidi No Niente Niente Oggi non ci siamo ragazzi Che cosa vi piglia Niente Davis Manciatilla Anticchie cane Davis Porca miseria Vai Oh E Lindy Vai Avanti Billy Alfonso Dai Buon inserimento Dai Al Zubaidi Manda fuori tempo Cross Bello Vabbè Era un passaggio Io la X ho premuto Vabbè Vabbè Ok Bravo Alfonso 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 Fatti 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 Ti riprende il palo Vuole farne un altro Dai Fatti Uno a zero Avanti Avanti Dai Dai signori Dai Avanti Vai Boven Billi 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 Vabbè Dai Oh bene 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 Li stiamo aggredendo Li stiamo aggredendo La stiamo La stiamo giocando bene questa Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Boven Ok Zubaidi Cross Vabbè C'hai provato Dai A buona volontà Ce l'hai messa Mettiamola così Vai Lunga Dai No Però non facciamo cavolà No Dai Dai ragazzi Dai ragazzi Per favore Ve lo chiedo Per favore Allora No no Calma 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 No 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 Vai Arbo 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 Vai Billy Billy Ruba palla Billy Ruba palla Billy Billy Vai Billy Vai Billy Billy La va per Alfonzino E Alfonzino Alfonso Davis 2 a 0 Ma grandissimo merito a Billy pure Che ruba palla Si invola Verso la porta E serve un assist Perfetto Per Alfonso Davis Dai ragazzi Dai ragazzi Dai che ci siamo Bellissimo Guardate là Lo vede libero Tac E E Alfonso Non può sbagliare 2 a 0 Dai ragazzi Dai Dai Vai Bene Bene Ci vuole Questo ci vuole Facciamo una bella vittoria Come si deve Che ci vuole per il morale Oltre che per la classifica Ragazzi Dai No 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 Però no Oh no No Che cosa Mori Va bene Va bene Infatti Bello Vai 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 Air Canada Vai Air Canada Il cross Alfonso Doppietta di Davis Alfonso Davis Alfonso Davis Ne 3 a 0 Alfonso Alfonso Davis 3 a 0 Grande Grande Alfonso Guardate Cross Comunque Queste 2 partite Un Alfonso Davis Veramente scatenato Un gol Il gol La scorsa partita E' stato il suo 2 gol Oggi 3 gol In 2 partite Ragazzi Scatenato Scatenato Bravo Alfonso E lindi E lindi E lindi A chi cazzo la dai Alfonso Non ti sei mosso benissimo Che cosa E lindi Non ci credo No C'è Questo cross Non è stato mio Comunque C'è stato Quella specie di cross È avuto fuori Da un rimparlo Tra il Zubaidi E l'altro giocatore Non è stato Un mio cross Se entrava un gol Così Era meraviglioso Era poesia E lindi Billy Sandro Emanuele Fallo Chi cazzo sangue Fallo Fallo Uvini Uvini Ibirre Che fa? Lo diamo un cartellino? Ah Giallo Ecco Uvini E Ibirre Sanno iniziare qui Ete Ok Fatti 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 Boven Il cross Billy Billy Peccato Billy Peccato Va bene Dai Fa niente Fa niente Però Fa niente Dai Ok No Allora No No Ok Calma Bene 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 Fine primo tempo Fine primo tempo Alla grandissima 3 a 0 Partita Bella chiusa Messa in cassaforte Direi che potrei Potrei Mettere a riposo Un po' i miei giocatori migliori Allora Direi a Baza Sulla sinistra Al posto E l'indie Mettiamo al suo posto Al suo watt E al boveno Mettiamo al centro E poi E poi E poi E come morire E non so E poi Non lo so E poi Non lo so Direi che un terzo cambio Ce lo riserviamo In caso di necessità Eh Facciamo a questa maniera Davis Hai fatto grandissima partita Due gol Tidiamo il cambio Proprio perché Adesso possiamo Perché ci servirai Per le prossime partite Tu posto a Baza Che comunque Non ci Non farà Pentire Del cambio No Bra Bra Bravissimo Su watt E niente Non riparti a loro Comunque Bravo boven Vai Billy Fatti 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 Fallo E da questa è fallo Con il nutazzo Con il nutazzo E fallo Dai No 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 Torboleta Cosa ha fatto Torboleta Cosa ha parato Cosa Che miracolo Ha fatto Torboleta Porca miseria Mamma Ma Che Che miracolo Ha fatto Io Niente No Scusate No Vabbè Niente Fate Ma No No Vabbè Pazzesco 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 Che Miracolo Ha fatto Signori Che io Non 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 Lo so Descrivere Pazzesco Io Lo dico Questo è Uno dei Nostri Punti Di forza Sto Portiere Infatti Bella Ayrd Ayrkanat Inserisce Manda fuori Tempo Il cross E Abazza E La mette Anche lui 4 A 0 Va Bene Abazza Era da un po' Che Abazza Non figurava Nel tabellino Dei marcatori E Adesso Centrato Avanti Così Vai Abazza Bellissimo Manda fuori Tempo Il cross Pappete Bravo Abazza Si fa trovare Il posto giusto O metto giusto Poi il resto E E Pura fisica Pallone Che impatta Sulla testa E poi Entra in rete 4 a 0 Ragazzi Dai No 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 Oh Vabbè Arboleda Prende Tutto Arboleda Prende Tutto Cioè E Dovevo Anche Essere Completamente Onesto Eh Lo diamo Nel frattempo Un cartellino Qua potremmo Darlo Comunque Devo Essere Onesto Avere Un portiere Così Che ti fa I miracoli Che para Certe cose Fase Difensiva Da Da Una Sicurezza Non dico Da sicurezza Da meno Insicurezza Ecco Comunque Hyde Cross Hyde Mangiate I lantichi Caine Hyde Ma Mangiala Un po' Di carne Non Non Andare A formaggino Mio Cioè Mangiala Un po' Di carne Comunque No No Arboleda Para Anche Questa Niente Non Cioè Comun Attenzione Comunque Va bene Va bene Abazza Bene Bene Per Suvat Benissimo I cross Suvat I cross Su cosa tua Boven Vabbè Ci hai provato Ci hai provato Boven Ci hai provato Ancora Su primo palo Infatti Macciato Sì Vabbè Macciato Di testa All'indietro Se entrava Questa Io Posavo Posavo Il pad E chiudevo La serie Se entrava Questa Comunque Dai No Bravo Alzubaidi Ripartiamo Billy Abazza Bella Abazza Abazza Bravo Abazza Manda fuori Tempo Giocatore Billy 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 tira Però Billy tira Quando premo Il quadrato Tira Porca miseria Tira Tira Comunque Infatti Thuvat Rossamper Abazza Abazza Niente Vabbè Potevi Farmi fare Sazione Ma va bene Lo stesso 4 a 0 Bene così Ci voleva Questa vittoria Ci voleva Speriamo E possa essere Servita qualcosa In termini di classifica Non lo so Dove Dobbiamo Vedere Insomma Dobbiamo Vedere Un attimo E adesso Vedremo In termini di classifica Cosa sarà Servita Questa Vittoria A nulla A nulla Perché Perché Siamo Comunque Terzi Siamo Comunque Terzi Dietro Faisali Che ci aveva Scavalcato Prima A cinque punti Lalalali Vabbè Sa cosa La cosa Dallalali Intanto Facciamo Un allenamento Lo facciamo Simula tutto Così andiamo Nel frattempo Dopo questo Meraviglioso Allenamento Che sto vedendo Direi che Possiamo Salutarci qua Darci appuntamento Mentre qua Colloqui I giocatori Già Sì Il mio loro Nel club L'onestà Mantene Jackie Hansing Va bene Poi vediamo Poi vediamo Jackie Hand Jackie Hand Poi vediamo Comunque Dicevo Dicevo Detto questo Possiamo Salutarci qua Darci appuntamento Alla prossima puntata Col calcio Kebab E fantasia Sempre con L'altapun Giampiero Ventura Alla Alla ricerca di gloria Nella lontana terra Degli arabi Del petrolio E insomma In Arabia Saudita Ecco Detto questo Saluto tutti quanti voi E alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima